Salute Marcel, come va? Bene, e la pesca com'è andata? Diti come siamo partiti, deserto del gobio. Gli eschimesi hanno arrazzolato tutto. Eh, si prendono tutto quegli avoltori. Vi vediamo. Ciao. Ciao. Siamo a Londra. È là che vuoi andare? È dall'altra parte. Qui siamo alle Havre, in Normandia. Hai fame? Venga qui. Potrebbe essere l'abbonamento del metro per anziani. Non c'è il metro alle Havre. Documenti. Cerchiamo un bambino di colore. È stato visto nei dintorni. Ha bisogno di cure. È certo. È così che dite sempre. Non ho visto nessuno. Forza se ne vada. E non dimentichi la sua colazione. È così che dite.